Allora, noi il patto di stabilità e crescita vogliamo che ci sia, però non lo vogliamo come un patto che sia non di crescita e che sia penalizzante per l'Italia o che sia un patto che noi non possiamo rispettare. È una questione anche di serietà e di credibilità. Noi riteniamo che ci debba esserci un patto che tenga conto anche delle spese che noi facciamo per la guerra in Ucraina, quelle che facciamo per rispettare alcuni impegni europei. Penso al Green Deal, penso ad una serie di investimenti che vengono fatti per decisioni europee, non perché c'è uno Stato sprecone. C'è un problema che riguarda anche i tassi di interesse, cioè quello che si paga sul debito e se la Banca Centrale Europea baserà finalmente il tasso di interesse come noi chiediamo da mesi perché è giusto agevolare le famiglie, è giusto agevolare le imprese perché il costo del denaro è eccessivo, a maggior ragione oggi che c'è stata una forte riduzione della inflazione. Anche questo potrebbe influire sul raggiungimento dell'accordo del patto di stabilità. Siccome non c'è fretta, noi riteniamo che si debba anche affrontare tutta la questione macroeconomica, cioè la politica finanziaria europea, guardando anche a tutti gli altri aspetti. Penso all'armonizzazione fiscale, noi siamo contro i paradisi fiscali, penso all'Unione bancaria, penso al mercato dei capitali. Se si è europeisti bisogna guardare a tutto insieme. Questo lo dico anche alle forze politiche italiane, mi auguro che tutti quanti si impegnino per raggiungere questi obiettivi. Perché in Europa non si può fare una scelta alla carta, nel senso si fa una cosa che serve a qualcuno e non si fa quella che serve ad altri. L'Europa è un insieme di Paesi che hanno ciascuno le proprie sensibilità, ciascuno i propri interessi. La soluzione deve essere una situazione di mediazione. Quindi se siamo veramente europeisti dobbiamo avere una politica macroeconomica europea, non fatta con una foglia di carciofo, una cosa si fa, poi si fa un'altra, poi forse non si fa. Questo non va bene e io credo che sia nostro vero di tutelare l'interesse dell'Italia in un contesto europeo.